Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Sono passati 30 anni dalla tragica alluvione della Valtellina, il fenomeno che più ha segnato la storia del nostro territorio. Un disastro ancora vivido nelle menti di chi ha vissuto quelle ore di angoscia, che si sono poi trasformate in lunghi anni dedicati alla ricostruzione e al ritorno alla normalità. Da qui, preservi un piano di sviluppo finanziato dalla legge 10190, la cosiddetta legge Valtellina, una norma speciale che stanziò la modica cifra di 2400 miliardi, a cui si sono aggiunti gli stanziamenti per la fase dell'emergenza, che hanno fatto rivetare la somma a 6 miliardi di vecchie lile. A oggi le quote sono state spese, ma in che modo? Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha tracciato un quadro della situazione insieme al referente valterinese Ruggero Spada e al curatore del rapporto Giovanni Bettini. È una legge che ha speso in modo abbastanza efficiente, è anche tutto sommato trasparente le risorse pubbliche, anche se ha avuto moltissimi ritardi nell'attuazione, però non ha lasciato da parte quelli che erano nodi prioritari. Ne cito soltanto uno, visto che siamo a due passi dal Mallero, proprio il bacino del Mallero, che doveva essere un bacino prioritario ed è ancora oggi un bacino irrisolto che genera una situazione non auspicabile per quanto riguarda il capoluogo valterinese. Era una legge che però conteneva anche delle visioni che non si sono realizzate. A partire dalla priorità assegnata al tema della ferrovia e del trasporto pubblico per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi di mobilità, non abbiamo visto realizzare un salto di qualità per quanto riguarda l'offerta di trasporto pubblico nel territorio valterinese. E a partire dal grande tema, che non è un tema locale, ma è un tema di rilevanza nazionale, dell'energia dell'acqua, dell'idroelettrico, su cui già allora, nel 1990, la legge dichiarava che entro sei mesi andavano rinnovate le concessioni sul grande idroelettrico. Altro nodo irrisolto, la realizzazione della tangenziale di Tirano, opera che sarebbe dovuta essere finanziata dalla legge Valtellina, così come il controllo e la cura del territorio. La legge Valtellina è stata una stagione di programmazione straordinaria, ora abbiamo bisogno maggiormente di concentrarci sulla gestione dell'ordinario, perché è ora di finirla, che il binomio manutenzione del territorio venga usato in ogni trasmissione televisiva, in ogni articolo di stampa, ma non venga praticato con strumenti che diano, per esempio, alle imprese agricole e forestali i mezzi e le possibilità per fare quella manutenzione del territorio di cui tutti unanimemente riconoscono la necessità.